Ma questa sera, seduto nel cratere di una granata, ho guardato al cielo di stelle sopra un ebreo, ed affascinato da loro scintillare, a un tratto ho capito come possa essere terribile l'inganno. Io non lo so se tu mi darai la tua mano, ma io ti dico, tu mi crederai. Non è possibile che questa notte in mezzo, penso che su spaventoso e inferno, io abbia sconto un annuncio e abbia visto te. Sai cos'è? Non posso dirti altro, sono veramente contento di averti conosciuto. A mezzanotte dobbiamo attaccare, ma io non ho mica cura, perché tanto ci sei tu che guardi a noi. È il segnale. Me ne devo andare. Peccato se stava così bene con te. Volevo dirci una cosa, non io, tu lo sai che la battaglia sarà dura questa notte. E può darsi che questa notte stessa io venga a bussare la tua porta. E anche se non sono stato mai il tuo amico, mi permetterai di entrare. Ma il tuo amore piacere. Ma non vuoi dire, mon Dio, soltanto ora ho cominciato a capire. E devo andare. Difficilmente ritornerò. da un altro amico. Ma voglio dirti una cosa, lo sai. Adesso non più paura della morte. Grazie.